Ciao, piacere in Italia. Calma, ho un po' la timidezza. Un pochettino, sì. Dove sei? Di Torino, provincia di Torino. Provincia di Siena. Sono Amin, ho 21 anni, vengo da Colle dei Val d'Elsa in provincia di Siena. Come stai? Tutto a posto, tu? Bene, grazie. Questo sarà il mio primo appuntamento al buio. Non ho la minima idea di cosa aspettarmi. Che fai nella vita? Io studio, ho iniziato l'università, da poco. Mentre tu? Studio secondo anno in farmacia a Siena? Io faccio infermieristica. Vedi? Più o meno. Anche se sono molto chiacchierone e socievole, quando si tratta di uscire con una ragazza o con delle ragazze, inizio ad essere parecchio timido. È un po'... È un po' così. È un po' così. È strano. Sono più con i social che dal vivo, sinceramente. Non lo so. Boh, come si fa? Non lo so nemmeno io perché non ci sono ancora riusciti a trovare la ragazza perfetta per me. Greci, un calice di bollicine? Sì, grazie. Che bei sorrisi che vediamo, eh? Oh. Prego. Grazie mille. Calmiamoli un pochino tutte e due. Mamma mia che agitazione. Rispetto all'amore ai ragazzi sono totalmente una svampita perché proprio non mi accorgo di nulla. Zero proprio. Bevi meglio per calmare la situazione. Ci metto anche del mio che magari cerco di non vederlo mettendo il paraocchi. Mi metto un'imbaranza in questa situazione che è terrificante. Vi accompagno al tavolo. Va bene. Grazie. Grazie. Sbaglio o Amina e Gaia sono tesi come due corde di violino? Così tesi che si può quasi sentire la musica della loro emozione. Secondo me l'attrazione sessuale all'inizio non conta quasi niente, se devo essere sincero. Uno deve aspettare un po'. Se volete veramente una relazione seria deve aspettare un pochino. Ti è italiana doc. Italiana doc, piemontese doc. Wow. Addirittura dalla stessa montagna. Due vanno a letto e decidono subito sì, tu mi piace, tu mi piace, mettiamoci insieme. Cioè non ha senso. Cioè tu cerchi una relazione seria, una relazione che basta che sia. Al momento sto cercando una relazione seria. Vorrei una ragazza che mi facesse aspettare un po' di tempo perché secondo me è meglio perché avrebbe anche dei valori più simili ai miei. E portarla avanti finché c'è. Sì, sinceramente per loro sì. Credo nell'amore perché ne ho dimostrazioni intorno a me sempre, costantemente. Te? È proprio il sogno di una vita avere una relazione quella stabile, carina, tutto uiii. I miei fratelli sono felici con le loro ragazze da un'eternità, i miei genitori sono felici insieme da un'eternità. Spero di trovarlo perché è una speranza giusta. Secondo te la scintilla può nascere dal primo appuntamento? Forse dal primo appuntamento ci metti il pezzo di legno. Cioè ci metti le basi. Se prende fuoco bene. Vabbè quello sì, secondo me. Sono uscita con vari ragazzi però non c'è mai stato un rapporto dal punto di vista fisico. Ci sta una scintilla all'inizio, nel primo appuntamento. Però non c'è subito l'attrazione. Sì, cioè scatta tipo l'interesse. Cioè dici... Brava. Mi si accende tipo la curiosità. Ma forse allora mi incuriosisce. Brava. Reputo il rapporto fisico una cosa speciale. Che entrambi le parti siano giuste. Che quindi non solo che l'altra mia parte sia quella giusta ma che anch'io sia la giusta per l'altro. Come ti definiresti? Caotica. Tanto caotica. Sia dentro che fuori. Forse maldestra anche. Beh di ginocchiata di prima. Sì. Come ti trà? Se responsibilitiese. Se possibile lo do? Buon cuore molto bene. Chi be combattuto folletto.